Credevo che perlomeno con la Gianna lo facessimo, invece il primo tempo totalmente... Loro hanno molta più fame, molta più voglia, molta più voglia di far loro la gara. Noi il primo tempo è totalmente derudente, è un peccato perché poi visto il secondo tempo non c'era una così differenza, il secondo tempo la potevamo anche rimediare. Spero il terzo gol sia buono perché se fosse veramente fuori gioco come mi dicevano ecco ci sarebbe un po' di rammare. Speriamo sia buono in tutto il secondo. Noi abbiamo vinto i campionati il 16 di aprile, continuo a ripetere ragazzi, siamo al 21 maggio. Sono tanti, sono tanti, 40 giorni dalla vittoria del campionato e hai visto i giocatori sono tutti uguali. C'è chi o vince o perde, mi cambia niente qua dentro senza problema e chi invece è meno, molto meno. Lascio l'ammare un bocca al primo tempo, il secondo, posso avere anche perdere, sono eliminato ma il secondo tempo l'accetto, non c'è problema, il primo tempo, perché il primo tempo sembrava ci fossero tre categorie, peccato.